ho dei bellissimi capelli ricci che hanno bisogno di essere riposizionati nel volume e sarà una tecnica di taglio che serve principalmente ad esaltare la loro bellezza ed eleganza non sarà un lavoro di perdita di lunghezza ma effettivamente un'architettura di taglio che serve a modificarne i volumi il trucco trattando questi capelli e non farsi prendere la mano da un taglio troppo vigoroso anzi pensiamo solo all'architettura e quindi disegnare dei volumi che siano complementari al volto in questo caso vogliamo allungare il suo viso quindi manterremo molta morbidezza nella zona della nuca grazie 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 grazie